musica 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 onorina carissima sto preparando un giro mozzafiato con qualche amico per la notte di halloween verrebbe a farci la guida cosa 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 no 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 a me non interessa niente di quella roba lì ma come scusi ma senza di lei il giro non avrebbe nessun senso però guardi che regaliamo resine e un set di guanti da forno ah quando diceva che si fa sta cosa qui a lui si insomma a destra più poco va bene però faccia un po' in fretta perchè ho il soffritto sul fuoco eh dio me mamma ormai il mio soffritto sarà andato sul soffritto ah si dai tal diavel mi fa sconfondere musica 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 Grazie a tutti.